Ecco una normale seduta di allenamento dei nostri ragazzi, vedete che è tutto impegnato il rettangolo di gioco, fino in punto proprio fino a dietro l'altra porta Ci sono gruppi di ragazzi che si allenano con i rispettivi mister, questo è il gruppo di mister Gabriele Di Felice, questo è il gruppo di portieri con il loro preparatore, mister Aurelio Gaspari L'incontro c'è Francesco Mancini con il suo gruppo di ragazzi Non lo devo andare a cercare il compagno preferito, facciamo la gira dei due Gira dall'altra parte Forte sta parte, facciamo la viaggia Andre Focchio! Grazie 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 Grazie.